Che peccato, c'è la recessione e non ho niente da mettermi. Se non fosse una cosa maledettamente seria, bisognerebbe riderci sopra. Solo tre giorni fa il Presidente del Consiglio, in un memorabile discorso in inglese, si diceva fiducioso. L'economia crescerà dell'1,2 o anche dell'1,5%. Ieri ci ha ripensato e ha detto che è arrivata la recessione. Ma nel secondo semestre inizierà la riscossa. Questo ha detto Conte. Tutti i governi sbagliano le previsioni, tutti i governi scaricano le colpe della crisi economica su quelli che c'erano prima. Ma qui siamo oltre. L'Istat ci conferma, con due trimestri consecutivi di prodotto interno lordo, con il segno meno, quello che molti dicono da tempo. Non solo non c'è la ripresa, ma c'è l'economia che sta tornando indietro. Se le cifre sulle quali è costruita la manovra economica sono quelle, purtroppo i numeri sono già a farlocchi. Buoni tutto al più per il gioco del lotto. Il deficit e il debito, il PIL e la pressione fiscale. Tutto da rifare, tutto da riscrivere. Mentre c'è già chi prevede un taglio severo delle prestazioni sanitarie, come l'ufficio parlamentare di bilancio, o una patrimoniale al 10%, come Carlo Cottarelli. In questo scenario, purtroppo sfavorevole, anche le due misure bandiera del governo, reddito di cittadinanza e quota 100, mostrano il limite noto, che solo Conte, Di Maio e Salvini fingono di non vedere. Sono palliativi, utilissimi per carità, per dare un aiuto a chi non ce la fa, ma non certo per rilanciare l'economia della quinta potenza dell'Occidente industrializzato. E scusate se mi cito, ma quando Di Maio, solo 20 giorni fa, annunciava un nuovo boom economico, aveva obiettato, questo è piuttosto un boom lisergico. Ebbene, ci siamo, gli effetti degli acidi stanno svanendo.